Pessima idea fare progetti per queste vacanze natalizie. Anche il Lebervul Volley è costretto ad alzare bandiera bianca e a dare forfè. Dopo l'annullamento del torneo scolastico che, nella giornata di oggi, avrebbe dovuto idealmente aprire le operazioni per l'evento del 3-5 gennaio, l'organizzazione, presieduta da Ezio Germanetti e Giussi Cenedese, aveva comunque usato toni speranzosi, sottolineando che il torneo di gennaio si sarebbe fatto e che l'evento annullato si sarebbe poi recuperato. Invece, nella serata di ieri è arrivata la decisione. In un comunicato diramato alle società iscritte, il Lebervul Volley si è reso ai numeri della pandemia. Questa sera alle 20, si legge, il comitato organizzatore del Lebervul Volley si è riunito per decidere se fare o non fare il torneo. All'unanimità, visto l'aumento smisurato dei casi di positività in tutta la nazione e viste le numerose richieste di rinuncia al torneo pervenute in data odierna, il Consiglio Direttivo ha deciso di salvaguardare tutti quanti, sia sotto l'aspetto economico che sanitario, annullando la diciottesima edizione del torneo. Una scelta quindi inevitabile e, come anticipato, fatta all'unanimità. In fase di presentazione era stato lo stesso Germanetti a sottolineare come l'organizzazione del torneo fosse una follia, sia per gli sforzi logistici, come sempre eccezionali, sia per il contesto sanitario italiano ed europeo. Se sembrava una follia, in autunno, le vacanze di Natale hanno portato l'organizzazione ad arrendersi all'evidenza e alle difficoltà, i problemi legati al consumo di cibi e bevande all'interno delle palestre, le noie per chi sarebbe arrivato dall'estero, la presenza di parenti sugli spalti. Insomma, anche la versione, ristretta e riveduta, non si poteva più fare. Vi assicuriamo di aver valutato a fondo tutti i vari aspetti e tutte le difficoltà che avremmo dovuto affrontare e abbiamo cercato, fino alla fine, di fare il nostro bellissimo torneo. A male in cuore vi diamo appuntamento alla prossima edizione, nella speranza di fare nuovamente un Bervul Volley degno del suo passato. La somma dell'iscrizione verrà correttamente restituita, le prenotazioni negli alberghi biellesi saranno annullate. L'ennesimo colpo all'entusiasmo di chi, da anni, si nutre di quello per dare al territorio un torneo dei numeri sensazionali.